Signore e signori, giungono notizie secondo cui Darkseid sarebbe stato sconfitto da Superman. Sebbene l'invasione sia di fatto terminata, i sacchicchi continuano. Deathstroke, come va? Beh, sai, è da un po' di tempo che... ho il tuo denaro! No, 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 per favore! Ho il denaro! Avresti dovuto pagare prima. Avresti ancora la testa sul collo.